Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la tribuna elettorale in vista delle elezioni regionali del 24 marzo. Come ogni giorno daremo ad una lista la possibilità di presentarsi agli elettori. Oggi in rappresentanza della lista Bardi presidente che sostiene appunto la candidatura di Vito Bardi per la coalizione di centrodestra. Abbiamo con noi Roberto Robilotta, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima di iniziare vi ricordo brevemente il format di questa tribuna elettorale. Sono sette le domande che faremo ai candidati o ai rappresentanti di lista che interverranno per rispondere alle quali avranno a disposizione 90 secondi, oltre ad una breve presentazione della lista ed un appello finale agli elettori della durata di un minuto. Ma andiamo con ordine. Ci presenti brevemente la lista Bardi presidente e Basilicata positiva. Qual è la sua connotazione e chi sono i candidati? Sì, allora intanto la lista si chiama Basilicata positiva Bardi presidente. È una lista civica, nasce appunto dalla configurazione civica del mondo civico, del mondo ambientalista, del mondo del volontariato. Attinge i candidati dalla società civile e da quel tipo di repertorio. I candidati per la provincia di Potenza sono Roberto Robilotta, Caroline Martino, Ettore Bove, Donata Santoro, Gianluigi Feminella, Elena Caldararo, Umberto Cappiello, Gianpaolo Travaglini, Michele Spaziante, Domenico Pietrapertosa, Anna Maria Pasqualucci, Vincenzo Clemente, Cinzia Boffa. Per i candidati di mia terra sono Pier Giorgio IV, Chiara Fanelli, Giovanni Scarola, Raffaele Oliva, Luisa Lacava, Carlotta Grieco, Margherita Asprella. Perfetto e partiamo subito con le domande da 90 secondi. Iniziamo subito con un giudizio sulla legislatura che va a concludersi. È una domanda piuttosto semplice per la risposta. In sostanza la Basilicata si trova in condizioni di estrema difficoltà, non si possono imputare queste condizioni se non alla classe dirigente politica precedente. Ma diciamo che è una circostanza che nasce da lontano, sono 20 anni di amministrazione che io definirei piuttosto incontrollata, cioè un mal governo che ha condotto la Basilicata a ritrovarsi nelle ultime posizioni in generale rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Questa circostanza non può che essere imputabile alla classe politica e alla governance precedente. Mi spiace dover essere così diretti, ma sono dati oggettivi, abbiamo una regressione continua, abbiamo un problema occupazionale enorme, abbiamo uno spopolamento progressivo e la Basilicata in qualche misura deve invertire la rutta, deve cambiare registro, deve trovare formule che possano migliorare, riportare, ripristinare le regole e riportare la Basilicata in un trend, diciamo, positivo. E passiamo alla sanità, sicuramente uno dei temi più caldi di questa campagna elettorale, cosa c'è da salvare e cosa invece va cambiato, secondo voi? La sanità è un tema delicato, intanto perché assorbe enormi quantità di denaro pubblico nel bilancio regionale e inoltre deve garantire servizi e prestazioni di alto livello, in generale anche in considerazione degli investimenti che si fanno intorno alla sanità. Le ultime vicende ci hanno dimostrato che anche la sanità è stata gestita in maniera arbitraria, diciamo inconcludente e anche dannosa per i cittadini, per gli utenti. Possiamo dire che le strutture presenti in Basilicata sono rilevanti e possono essere usate in maniera migliore, bisogna efficientare le strutture, efficientare anche la parte, diciamo, della professionale, cioè bisogna cominciare a ragionare in termini di eccellenza e anche diversificare le attività svolte dai singoli presidi ospedalieri. Nella fattispecie noi abbiamo un progetto specifico che è rivolto alla riqualificazione e a una nuova viabilità sanitaria, tuttavia ci vorrà il tempo tecnico di invertire la rotta e lavorare in quella direzione e ce la faremo, se avremo il sostegno dell'elettorato. Un grande problema della Basilicata è sicuramente quello delle infrastrutture. Quali sono, a vostro avviso, quelle sulle quali bisognerebbe maggiormente puntare? No, bisogna intanto mettere in sicurezza una serie di arterie importanti, la potenza Melfi, la potenza Metaponto, ci sono tante e altre strade interne che potrebbero migliorare le connessioni tra i singoli paesi della Basilicata. C'è da migliorare la parte ferroviaria, c'è da migliorare anche la parte su gomme che in questo momento sopperisce alla mancanza di tratte specifiche ferroviarie, insomma c'è da lavorare tantissimo e soprattutto completare le incompiute che teniamo in giro sul territorio lucano. Ce la faremo perché ritorniamo sempre allo stesso punto. Bisogna cambiare paradigma, avere una visione di insieme differente rispetto a quella dei precedenti 20 anni, bisogna programmare ma non solo programmare sulla carta, bisogna rendere praticabili i progetti ed eseguirli, non lasciarli a metà o non lasciarli esclusivamente sulla carta, bisogna lavorare. Però ci sono tutte le condizioni per poter migliorare questo tipo di prestazioni sui territori, cambiare l'asset della viabilità, della mobilità, si può lavorare. Ci sono i presupposti e ci sono anche i modelli che abbiamo immaginato nei nostri progetti, nei nostri programmi per migliorare questo altro elemento riduttivo rispetto alla Regione. Questo è l'anno di Matera 2019, una grande opportunità per l'intera Regione, secondo voi fino ad ora è stata sfruttata nel migliore dei modi? No, sinceramente no. Intanto ci sono stati diversi anni per poter pianificare le operazioni da fare, le attività da gestire e anche le riqualificazioni da portare sul territorio, in particolare sul Materano. Ad oggi, certo, si tireranno le somme alla fine di questo grandissimo evento, che può essere comunque un volano per la Basilicata, ma la gestione che ha avuto questo evento sin dall'inizio ha avuto tantissimi problemi, tantissimi rallentamenti. Ad oggi ci sono ancora nella città di Matera alcune opere incompiute, alcune aree non eseguite correttamente, non riqualificate. Io penso che il primo biglietto da visita sia proprio il decoro urbano di una città, non basta avere un grandissimo elemento di attrazione che è riferito ai sassi di Matera, un tempo vergogna nazionale, oggi vanto nazionale, patrimonio dell'UNESCO, quindi non possiamo certo sminuire il valore che assume quell'area, però dobbiamo pensare che una città deve poter accogliere un'utenza variegata e anche considerevole attraverso varie misure, poste in particolare sulla città, quindi il decoro urbano è importantissimo, le connessioni, i collegamenti, i servizi, l'ospitalità, l'accoglienza, la promozione degli eventi, sono elementi fondamentali. Perciò ritengo che ad oggi se dovessimo fare una quantificazione delle cose fatte e come sono state fatte ritengo che l'esito al momento è negativo. E passiamo al tema della disoccupazione purtroppo sempre attuale, come creare lavoro in Basilicata? Intanto, sì questo è un tema delicatissimo, che poi è connesso anche allo spopolamento, al fatto che i giovani sono costretti ad andare via per trovare una propria collocazione lavorativa, professionale e anche personale. La disoccupazione è legata a una serie di fattori. Noi abbiamo puntato in questi ultimi 20 anni, abbiamo puntato esclusivamente sul settore industriale, in particolare anche sul settore del petrolio e dei rifiuti. Non è stato un buon investimento, noi ci troviamo ad essere sempre tra le tre regioni più povere d'Italia negli ultimi 20 anni, i dati svimez ci dicono testualmente, ci danno purtroppo un dato così drammatico e quindi noi dobbiamo cambiare questo paradosso, non possiamo essere poveri se siamo così ricchi di risorse, se formuliamo intorno a queste risorse una serie di attività, l'indotto si muove ma è sempre imprigionato rispetto a politiche dominanti delle lobby sui territori. Noi non siamo una colonia delle multinazionali, noi dobbiamo essere indipendenti, dobbiamo lavorare su modelli di sviluppo sostenibile, dobbiamo lavorare su modelli di transizione energetica, dobbiamo lavorare su modelli di occupazione stabili, immaginare attività stabili, perché io mi domando quando saranno finite tutte queste attività, che cosa resterà sul nostro territorio? Io ad oggi ci vedo solo la possibilità di trovare macerie sul territorio, nient'altro, nessun modello di sviluppo, tanto meno di sviluppo sostenibile. Come ha già accennato, tanti giovani continuano a lasciare la Basilicata, c'è una ricetta per arginare il fenomeno dello spopolamento? Sì, allora io intanto volevo anche concludere questo discorso, perché noi abbiamo confuso la vocazione naturale della nostra regione, cioè noi siamo una regione che ha delle caratteristiche specifiche, in particolare potevamo e dobbiamo ancora puntare sull'agroalimentare, dobbiamo puntare anche sul turismo, il turismo culturale, Matera 2019 è un caso diciamo abbastanza diretto, però bisogna incrementare questo tipo di sviluppo, dobbiamo lavorare su eventualmente una transizione per le energie, per tutte le rinnovabili, ma in maniera controllata, non possiamo permettere un'invasione dell'eolico che diventa un fatto privato, non diventa un fatto di interesse collettivo. Insomma possiamo immaginare tutte le nuove attività che si svilupperanno sull'alta tecnologia, sulla banda larga, possiamo immaginare nuove start up, dobbiamo incentivare le imprese che assumono dipendenti senza limiti di età, perché non abbiamo solo il problema dei giovani, abbiamo il problema di persone over 50 o intorno a persone di mezza età che si sono ritrovate senza lavoro, noi dobbiamo trovare delle soluzioni per queste persone, perché queste persone hanno famiglie, figli che dovranno anche loro essere assistiti, dovranno formarsi e dovranno immaginare quale sarà il loro futuro personale e lavorativo, quindi bisogna lavorare molto su questo tipo di impianti produttivi e trasformare tutti gli impianti obsoleti, vecchi, altamente inquinanti in impianti che devono essere adeguati a tecniche e produzioni di qualità e legate alla sostenibilità. Le tematiche ambientali a cui abbiamo già fatto cenno in qualche modo si intrecciano inevitabilmente con le estrazioni, qual è la vostra idea sul futuro del petrolio in Basilicata? No, il modello che è stato costruito intorno alle estrazioni petrolifere è stato disastroso, cioè non c'è un solo dato positivo, disastroso, non dobbiamo fare solo un riferimento alla questione economica, che pure è estremamente importante, che ha ridotto i volumi delle entrate economiche a delle royalties irrilevanti rispetto a tutti gli altri parametri nazionali e internazionali, noi prendiamo royalties ridicole e probabilmente non le prendiamo nemmeno in maniera corretta e tra l'altro queste royalties purtroppo sono state destinate alla spesa corrente, cioè a mantenere in piedi dei baracconi inutili, più delle volte inefficienti, sotto il totale controllo della politica che non ha consentito di avere una gestione libera di questi enti e quindi abbiamo tralasciato gli investimenti sullo sviluppo, noi avremmo dovuto gestire gli investimenti, tutti gli introiti delle royalties su modelli di sviluppo, non modelli di mantenimento, di sviluppo su tutti i fronti, sul fronte infrastrutturale, sul fronte che si connette poi alla qualità della produzione che possiamo fare e alla competitività delle aziende che noi abbiamo in Basilicata, il fronte è molto ampio, ma i soldi che sono stati percepiti, le royalties che probabilmente equivalgono a circa 1 miliardo e 300 milioni di Euro, che sono un'enormità per una regione come la nostra, ad oggi questo sembrerebbe essere il volume più o meno delle royalties percepite, sono stati spesi malissimi, nessuno avverte la presenza e la buona utilizzazione di queste risorse e la Basilicata è andata via via peggiorando, non è migliorata, questi investimenti non sono serviti a niente, non sappiamo nemmeno dove sono stati destinati e quindi oggi ci ritroviamo a mantenere una spesa corrente estremamente dannosa per la nostra regione, soprattutto spalmata su una serie di enti che non danno il risultato che dovrebbero, che si attendono i cittadini. E chiudiamo con l'appello finale agli elettori, un minuto a sua disposizione. Ah sì, grazie. Allora mi fermerà lei perché potrei distrarmi. No, allora volevo parlare della nostra lista in particolare, allora io sono il candidato capolista della lista Basilicata positiva con bar di presidente, la nostra lista nasce veramente autenticamente da una piattaforma civica, lo stesso candidato presidente, espressione del mondo civico, diciamo della società civile ed è una persona di alto spessore, di alto profilo culturale e formativo, insomma al netto della sua poi carriera personale. Questa lista nasce con l'obiettivo appunto di cambiare le regole all'interno delle piattaforme politiche completamente ferme da vent'anni, sempre le stesse persone, sempre gli stessi progetti mai portati avanti. Oggi qualcuno comincia a parlare di programmi, ma io in passato non ho mai visto i programmi di queste persone, semmai li hanno fatti, li hanno tenuti nascosti nei cassetti, non sono mai stati realizzati. Quindi è un'occasione per poter portare all'interno delle istituzioni persone che hanno lavorato, come nel mio caso, nell'associazionismo, nel volontariato, nel mondo ambientalista, facendo battaglie vere sui territori da anni, non da oggi, da anni e forse oggi possiamo portare le nostre istanze a livello istituzionale e quindi garantire oltre che un'attività civica, forse possiamo rendere praticabili e con maggiore intensità le istanze dei territori, che è quello che noi faremo e che io personalmente mi impegnerò a fare. Lo abbiamo fatto in tempi non sospetti, quando eravamo totalmente fuori il circuito istituzionale. Oggi se riuscissimo a entrare all'interno del circuito istituzionale con queste caratteristiche potremmo veramente dare segnali di cambiamento. Ci vorrà forse un po' di tempo, ma certamente è un buon inizio e potremo continuare a lavorare in quella direzione. Quindi invito tutti i telespettatori a tenere in considerazione queste circostanze e a valutare un vero sostegno a un cambiamento oggettivo, che probabilmente in precedenza sarebbe stato impensabile. Oggi il trend ci porta a ritenere che possiamo intervenire da questo punto di vista nelle piattaforme politiche e auspichiamo che questa cosa vada a buon fine nell'interesse di tutti, nell'interesse collettivo. Un ricambio è necessario, non si può rimanere altri cinque anni con questo tipo di amministrazione. Bisogna cambiare, questo è fuori discussione. Non lo dico io, lo dicono tutti, è la percezione comune e quindi noi ci siamo resi strumento dei cittadini del mondo civico per portare istanze, progetti e cambiamenti all'interno della pubblica amministrazione e delle istituzioni. Bene, io ringrazio Roberto Robilotta della lista Bardi Presidente per essere stato con noi. Io ringrazio e saluto tutti i telespettatori, spero di non aver sporato sul tempo. Assolutamente, siamo stati nei tempi. Siamo giunti alla fine di questo appuntamento con la tribuna elettorale in vista del voto del 24 marzo. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.